Oggi Pasquo andrà a farci vedere come fare un beat in stile trap francese Se non conoscete Pasquo è uno dei membri di Hyper Records Che ha prodotto per artisti come Simba, Kerchak, Malti 2BZ e molti altri Nel video andrà a utilizzare il suo nuovo multi kit Shavkat 2 Pieno di suoni perfetti per fare trap francese E per festeggiare il drop abbiamo deciso che per un tempo limitato Chi acquisterà Shavkat 2 riceverà Shavkat 1 in regalo Quindi se vuoi sfruttare l'offerta e avere due kit al prezzo di uno Clicca il link in descrizione Detto questo andiamo al cook up di Pasqua Clicca il link in descrizione 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 Clicca il link in descrizione